Il sindaco facente funzioni del comune di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, ha inviato una richiesta di intervento al prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, relativa all'incremento dei furti nelle abitazioni sul territorio. Appare quanto mai necessaria una riorganizzazione degli apparati di forza pubblica territorialmente competenti, si legge nella lettera, al fine di poter contare su un maggior numero di unità sia per intensificare i controlli che per assicurare il pronto intervento a fronte delle numerose richieste di ausilio e soccorso da parte dei cittadini. E' stato chiesto al prefetto di valutare anche l'attivazione di un tavolo di confronto per individuare possibili soluzioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS